Grazie a tutti. Se dentro di noi c'è qualcosa che ci dice che questo stile, questo modo, questo contesto non ci piace, e allora capire anche insieme, non preoccupati del numero, come cambiare. Dico non preoccupati del numero perché parto dalla realtà mia. I gesuiti quando hanno iniziato erano dieci. Dieci. E quindi ancora una volta grazie e siamo qui per ascoltare. Grazie. Buonasera a tutti. Sono Carlo Messina e porto i soluti dell'Associazione AS. Mi piaceva sottolineare due punti un po' in linea con quanto ci diceva il padre, che secondo me sono importanti per il tema che andiamo a trattare. Da una parte che è un po' lo stimolo che vorrebbe essere proprio quello di trovare una terza via tra due tipologie di comportamenti che oggi si riscontrano nella nostra società. Da una parte le persone che sono portate a vedere in tutto quello che fanno un ritorno, soprattutto appunto nell'ambito economico che forse prevale eccessivamente nel nostro contesto sociale, ci porta veramente in tutto quello che facciamo a capire quale ritorno avrò. Che però diventa un pochino un addiminuzio perché chiaramente poi le persone sono felice solo quando riescono a dare, a dare per il gusto di dare agli altri. E dall'altra ci sono le anime contestatrici, cioè quelle che dicono che tutto è male, che non si può fare niente, che quindi è meglio mollare, però così non si riesce a costruire nulla. Allora io penso che in questo momento vadano stimolati piccoli gruppi, anche io condivido questo aspetto, piccoli gruppi di persone di buona volontà. Che hanno voglia di confrontarsi per ascoltare realmente gli altri e ascoltare realmente gli altri significa veramente accogliere quello che l'altro ha da proporci, farlo proprio e cercare di trovare una sintesi che possa prendere il meglio di tutte le relazioni che uno ha potuto ascoltare. Perché a volte invece l'atteggiamento dell'ascolto non è puro e quindi quello che avviene è che le partigenerie prendono il sopravvento e quindi diventa un problema tra Lazio e Roma e via dicendo, visto che abbiamo specialisti del tema. E dall'altro, pensando un po' più allo specifico al tema di oggi, quando penso al smart city, all'economia solidale, devo dire che io per lavoro viaggio parecchio, no? E senza andare troppo lontano, già vedendo cosa è successo a Milano negli ultimi anni, capire che in fondo forse se famiglie, aziende, istituzioni, turisti prediligono spesso Milano a Roma, è anche perché pure su questo tema Milano ha fatto molto di più rispetto alla città come la nostra. Noi spesso ci giustificiamo dicendo che la nostra è la città più grande d'Europa, che la metro anche se sono tre linee, i chilometri sono molto più lunghi di quelli di Milano, però questo secondo me non è un bene, nel senso che chiaramente Roma deve cambiare, deve migliorarsi, anche perché abbiamo la responsabilità di lasciarla in un modo migliore rispetto a come ce l'hanno consegnata. E quindi sicuramente ci sono due filoni culturali in questo caso su cui si deve lavorare, cioè da una parte il cittadino che deve diventare più responsabile, e quindi capire che lui partecipa a questo progetto di cambiamento di una città migliore e quindi se la città è sporca, forse sporca anche per colpa sua. E dall'altra sicuramente chi ci governa deve forse mettersi più in un'ottica di servizio verso terzi. E il mio grande sogno è quello che veramente la Smart City parta dalle periferie, perché altrimenti non si capisce come in una città come Roma, se c'è una metropolitana che ancora non si congiunge contemporaneamente alle altre due, che addirittura chiude la notte, degli autobus che non si sa se passano, non si capisce come mai poi dalla periferia, che è dove vive tutta la gente, si riversano tutti in centro e la città va nel caos più completo. Quindi sicuramente c'è questa doppia tensione. Io poi mi fermo e passo la parola al moderatore. Grazie anche per le parole di padre Giovanni e grazie a questa struttura davvero prestigiosa che ci ospita, quasi ci imbarazza. Ma come diceva padre Giovanni non dobbiamo preoccuparci né del numero né dei numeri e andare avanti un po' con le nostre idee. Noi ci proviamo, il giornale radio sociale è una struttura che non si preoccupa del numero e dei numeri, se no non saremmo neanche partiti. Però l'idea di una comunicazione sociale che attraverso la radio, un po' come l'acqua, arriva dappertutto, a costi di produzione bassi e quindi alla nostra portata, è un'idea che con il tempo si sta dimostrando utile anche in questa idea e in questa visione di smart, direi mutuando il termine smart city, cioè città intelligenti, smart media, la radio è un po' così. In platea tra i partecipanti c'è anche il mio amico Carlo Paris, io questa sera immodestamente, immeritatamente lo sostituisco. Allora, per introdurre i due relatori, smart city, ovvero città intelligenti, che cosa significa? Cercheremo di capirlo. Cercheremo di capirlo anche alla luce di parametri che non sono soltanto tecnici o economici, ma sono parametri sociali. Questa idea, questa definizione di smart city è nata una decina d'anni fa e in qualche modo si è fatta strada, i maligni dicono un po' su misura di qualche grande multinazionale interessata a piazzare soprattutto strumenti e quindi comunità basate su infrastrutture tecnologiche ed è nata appunto proprio su questa idea. Quali sono i fattori delle città intelligenti, quanto le infrastrutture contribuiscono alla costruzione di città intelligenti, quali sono i parametri di valutazione di tipo tecnologico. Più recentemente la valutazione si sta facendo un po' più complessa e va nella direzione di quello che affronteremo stasera, ovvero quanto il modello delle smart city originato appunto da legami molto stretti con un'idea di informatizzazione, infrastrutturazione digitale, diventa anche qualcos'altro e si sposta dall'innovazione tecnologica a quella sociale, alla cogestione ai beni comuni, alla capacità di nuova programmazione e quindi ad esempio accogliere e saper gestire i flussi migratori è una di questa capacità di nuova programmazione così come attivare le reti di relazione, saper attrarre investimenti pubblici oltre che privati. All'interno di questa visione che si sta facendo strada e che gli studiosi ci aiutano anche a noi come sociale, come terzo settore, un po' a declinare, le domande di partenza sarebbero molte. Basta un importante carico tecnologico per fare una smart city, per rendere la vita degli individui, di tutti gli individui, non soltanto dei più ricchi, dei più dotati, dei più intelligenti, migliore, più felice. Ecco, queste sono le domande che io porgo all'inizio ai nostri relatori. Ci sarà un loro breve intervento, poi domande da parte di tutti quanti i partecipanti e poi replica e conclusione di padre Giovanni Lamanna. Chiuderemo attorno alle 19.45.20 in maniera tale che ognuno possa organizzarsi. Allora, iniziamo con l'intervento del professor Leonardo Becchetti, professore ordinario di Economia Politica all'Università di Roma Torvergata. Grazie, scusate, mi alzo perché così posso azionare le slide. Per me smart non vuol dire solo tecnologicamente avanzato, smart vuol dire generativo. Io faccio parte di una branca di economia che si chiama Economia Civile. L'Economia Civile misura, lavora in termini interdisciplinari e lavora anche molto sul tema della felicità. Sapete che abbiamo presentato a Roma Junior il rapporto mondiale sulla felicità con le Nazioni Unite. E avendo studiato molto questo tema, avendo visto tantissimi dati in tutto il mondo, posso dire che la felicità la sintetizzo in una parola sola, generatività. Cioè la capacità di creare qualcosa che ha un impatto sugli altri, positivo. Ecco, innanzitutto in premessa voglio dire che non sono estraneo le due organizzazioni che hanno organizzato questo incontro perché sono ex alunno dei Gesuiti, sono stato presidente delle comunità di Cristiana per vari anni e ho preso una modestissima laurea in scienze religiose alla Santa Croce. Quindi diciamo che sono un ibrido frutto di queste due culture apparentemente non proprio uguali. Ma questo mi ha giovato molto perché vedere la vita da diversi punti di vista aiuta tantissimo. Oltre a LSI dove sono stato eccetera. Quindi il tema è che per essere smart bisogna essere generativi. Se si è generativi si è felici. E quindi io vi farò vedere questo. Innanzitutto capire quali sono i problemi. Ecco, diceva prima Padre Lamanna, l'economia conta troppo. Viviamo in una sorta di frullatore, di macchina impazzita. E quindi per risolvere il problema bisogna prendere il toro per le corna. E dall'economia che lo risolviamo. Usando degli strumenti che riescono a condizionare l'economia possiamo risolvere il problema. Se c'è una macchina impazzita solo un meccanico può risolvere le questioni. C'è qualcuno che conosce veramente bene come funziona il motore. Ecco perché gli economisti sono importanti. E qual è il problema nei motori? Sono i tre riduzionismi. Sono i tre riduzionismi antropologico, corporate e del valore che producono tutta una serie di danni. Ma soprattutto io direi, sono ossessionato da questo, credo che ormai sia veramente la sintesi di tutto. Oggi vedevo come una macchina che non ha una ruota. Quindi da una parte cicola sul terreno e la ruota che non c'è è quella del lavoratore. Cioè questo è un sistema che per come è costruito il modo di concepire l'economia è intrinsecamente sbilanciato a favore del consumatore ma sotto le macerie ci sono i lavoratori. Cioè fondamentalmente è un sistema che si preoccupa e tutto volto a creare il massimo numero dei beni al prezzo più basso possibile. E in questo ha avuto un successo straordinario. Viviamo in un mondo, se ci pensate, incredibile. Siamo onnipotenti, siamo anche infatti molto viziati come consumatori, siamo bulimici eccetera. Ma la controparte di tutto questo è il lavoro. Abbiamo visto adesso siamo arrivati a Wowsher, ma ci sono anche i lavoratori della Capitanata di Foggia. Insomma ne possiamo fare di esempi. L'esempio secondo me è più clamoroso, ecco perché io poi insisto, noi diciamo che la leva del cambiamento sono i cittadini, i lavoratori, i consumatori che usano il voto col portafoglio. Cioè sono il loro potere, l'unico potere che hanno oggi che è quello di consumatori e di risparmiatori. La chiave di volta interessantissima, l'ho citato lì, è il caso Futora. Futora, sapete, sono quei ragazzi che vengono pagati 2,7 dollari se riescono a consegnare entro 15 minuti la pizza. e loro per cercare di migliorare le loro condizioni economiche non hanno fatto uno sciopero. Hanno detto ai consumatori non comprate i nostri prodotti. Cioè quindi sono arrivati al paradosso di dire ci facciamo del male, ma capiamo che l'unico modo per cambiare le cose è fare appello allo stakeholder forte, che è il consumatore, è l'unico che può condizionare l'azienda. E poi vi dirò una serie di risposte che come economia civile abbiamo elaborato. Stamattina le esponevo alla riunione degli assistenti ecclesiastici di tutti i movimenti cattolici, dalle agli, con diretti, con commercio, con cooperative eccetera. Sono varie cose della Smart City. Il problema io lo raffiguro in questo modo, cioè ci sono una serie di mali che sono interconnessi tra di loro e che come nell'idra di Ercole, se noi non andiamo a intervenire alla radice, rischiamo per curarne uno di rendere gli altri più gravi. Quindi tutti i problemi sono fortemente interconnessi, l'ambiente, la povertà, la disoccupazione, i problemi finanziari e quelli di soddisfazione e di senso della vita. Le tre cause di tutto questo sono appunti dei riduzionismi. In poche parole sono anche i tre filoni di lavoro, di ricerca nostri, di economia civile, di azione concreta. Il primo, l'uomo, riduzionismo vuol dire visione angusta, l'uomo economicus invece che la persona. L'uomo economicus, dice Amartya Sen, è fondamentalmente un idiota sociale, ma non è una parolaccia, vuol dire una persona incapace di sfruttare il potenziale della cooperazione e della fiducia che fa sì che quando si coopera uno più uno fa tre. In economia vige la legge della superadditività. Nei territori, nei paesi, nelle regioni, io giro l'Italia come una trottola, ci sono regioni fortunate dove la gente ha cooperato, dall'agricoltura, all'industria, all'artigianato, ha creato valore, questo valore si è accumulato nelle cooperative, nelle fondazioni, e questo valore adesso viene usato, i dividendi servono per far creare nuove aziende, per tappare buchi dove c'è bisogno di solidarietà, eccetera. Altre regioni dove questo valore non si è creato. Quindi la differenza tra l'uomo economicus e la persona fa il vero oro dei territori è questo capitale sociale. Potrei parlare ora per spiegarvi perché in alcune regioni in un modo e in altre in un altro. Secondo punto, riduzionismo del valore, questo è il punto fondamentale. Come si misura se una city è smart? Quali sono gli indicatori? Perché guardate che il senso di marcia ce lo dà il valore, io dico le tavole laiche della legge sono queste del valore, cioè se si dice è il PIL, allora ci sono due comandamenti, ciò che aumenta il PIL è bene, ciò che diminuisce il PIL è male. Peccato che aumenta il PIL anche droga, contrabbando, prostituzione, azzardo, eccetera. Allora noi diciamo non il PIL, ma qualcosa che lo ricomprende, ma che comprende molte più cose, che è il BES, il benessere quel sostenibile, che è il set di indicatori che abbiamo costruito con l'Istat, con il ministro Giovannini, e che adesso è diventato il benchmark per la valutazione della legge finanziaria nazionale, da giugno con un progetto, una legge approvata da tutti i partiti all'unanimità. E stiamo lavorando per capire come questa legge di bilancio incide sul BES, come incide sulla salute, sull'istruzione, sulla qualità della vita, la fotografia del BES, quindi il BES cosa ci dice? La ricchezza dei territori non è il PIL, ma è lo stock, che è un flusso di valore creato, che spesso non è neanche valore del territorio, a certe volte anche valore fittizio, pensiamo al PIL irlandese, ma è lo stock dei beni culturali, spirituali, economici, ambientali, relazionali, di cui una comunità può godere su un territorio. E questa roba si misura, facendo il caso dell'Italia, di Roma, cioè il quartiere migliore di Roma, dove si vive cinque anni in più, in media, che nel quartiere peggiore. Ecco come si misura veramente il benessere delle persone. Poi potremmo parlare dell'istruzione, potremmo parlare della qualità del paesaggio, sono tutti indicatori. Terzo elemento, l'impresa, oggi parlavo, c'era con me anche a Bede, Giancarlo a Bede, e a lui questo tema piace moltissimo, perché per fortuna adesso abbiamo una nuova generazione di imprenditori che sono più ambiziosi, non vogliono guardare solo al profitto, ma vogliono guardare anche all'impatto. Si pongono il problema dell'impatto sulla società. Quindi l'impact nascono le benefit corporation, che sono figlie di tutto un mondo di imprese sociali, di imprese che non puntano alla massimizzazione del profitto, ma cercano di creare del valore economico in maniera socialmente e ambientalmente sostenibile, di ripartirlo in maniera equa tra gli stakeholder. In tutto questo la sharing economy può essere un'opportunità, ma può essere anche una minaccia. Cos'è la sharing economy? La sharing economy è un effetto della rete che porta ad una polverizzazione e al cambiamento dell'impresa. Prima della sharing economy esisteva una classica differenza tra domanda e offerta. I consumatori, blu, e le imprese, chiuse in un loro perimetro, collaboratori di staff e di line, che si incontravano sul mercato. La sharing economy cosa fa? Polverizza l'impresa perché la piattaforma consente ai lavoratori di line di disintermediarsi dei lavoratori di staff e quindi i servizi te li dà la piattaforma che diventa la vera azienda. Quindi si supera la distinzione tra domanda e offerta e nascono i prosumers. C'è un mio collega che sta cercando di fare modelli sui prosumers ed è difficilissimo. E quindi abbiamo un sistema di questo tipo. Abbiamo la piattaforma dove ci sono da una parte i prosumers, cioè quelli che possono a loro volta essere qualche volta consumatori, altre volte sono produttori, mettono a disposizione la casa oppure cucinano, eccetera. E quindi i lavoratori un po' freelancer. Tutto questo è progresso purtroppo sempre nella direzione dei consumatori. I consumatori hanno ancora di più, hanno più opzioni, hanno prezzi ancora più bassi. Pensate al tema di Uber e dei tassi, ma dobbiamo andare a vedere cosa succede dall'altro lato. Quindi il problema qual è? Il problema vero nella sharing economy, ancora una volta, è il problema della governance della piattaforma. Cioè qual è la piattaforma che ha un potere enorme perché intermedia a tutto questo rapporto tra prosumers e freelancer, diciamo freelancer, gente che lavora con voucher, eccetera, eccetera. Il tema vero è la ricchezza che è generata da questo sistema. Dove va? Si concentra nelle mani di chi possiede la piattaforma oppure si distribuisce tra tutti. Quindi la governance della piattaforma è il tema fondamentale. Alla fine tutto ciò che conta è il modo in cui si costruisce e si ridistribuisce il valore. Qui salto molte cose perché ovviamente oggi però per dirvi ci sono modelli di piattaforme transazionali e trasformative. L'esempio è la differenza tra Uber e alcune altre invece cooperative che sono community di prosumers che si mettono assieme e che condividono questi servizi tra di loro. Quindi questo è il punto fondamentale. Ecco, la trasformativa per esempio è la cooperativa di Vancouver che offre car sharing e la transazionale Uber. Salto un po' di cose, vabbè, sapete che è un mondo sempre, c'è moltissima diseguaglianza, c'è un problema di sostenibilità ambientale enorme, il 25% dei beni prodotti sulla faccia della terra sono nati dopo il 2000, quindi c'è un problema drammatico di sostenibilità ambientale. Qual è la risposta che noi diamo come economia civile? Adesso arriviamo ai punti della sharing, della smart city. La risposta è, noi dobbiamo assolutamente, se vogliamo creare una città ricca generativa, passare da un modello a due a un modello a quattro mani. Un modello a due mani è quello dove noi siamo seduti in poltrona, guardiamo i talk show la sera e i problemi ce li risolve lo Stato e il mercato. Ecco, questo sistema non può funzionare, possiamo fare miriadi di esempi, perché il mercato risolve solo il problema del consumatore e non degli altri stakeholder e perché le istituzioni che dovrebbero correggere i fallimenti del mercato non hanno mai quelle tre proprietà indicate lì, tutte insieme, non sono mai benevolenti, perfettamente informate e così forti da non essere catturati dai regolati. E il problema dell'italiano che crede ancora nel modello a due mani è l'eterno inseguimento dell'uomo della provvidenza. Quest'uomo della provvidenza non arriva mai, sia che sia il premier del paese che il sindaco. Questa è una bellissima citazione da Minervini, no? La ricerca del capo, quel capo che ti risolve il problema. E questo è anche un sistema che logora il politico, lo mette sotto pressione, alla fine lo distrugge perché quel politico non può essere all'altezza del compito. È un sistema che produce delega etica e schizofrenia interessantissima, qui sarebbe da discutere anche il fatto che questo sistema non chiede nulla di altruismo e di benevolenza al cittadino e all'imprenditore che devono massimizzare il loro interesse, ma nel momento in cui uno di queste persone entra in politica deve diventare un santo. E poi quando torna in... Ecco, qui è un sistema che non può funzionare neanche da questo punto di vista. Noi proponiamo un modello di questo tipo, che è un modello a quattro mani, cioè un modello dove la terza mano della cittadinanza responsabile, che ha vari strumenti che vedremo, lavora assieme alle imprese sostenibili, quarta mano, insieme al buono stato e al buon mercato per produrre le soluzioni. Quindi sistema a quattro mani di cui poi vi parlerò. E vediamo adesso la Smart City. Per Smart City questa è una serie di elementi che riassumono una serie di proposte, le abbiamo presentate adesso a Bertinoro in questa slide che forse chi mi segue ha visto sui social e che abbiamo presentato come lega ambiente in Parlamento alla Camera adesso che c'è stata la finanziaria. Fondamentalmente noi pensiamo che queste siano le cose fondamentali. Allora, prima cosa, politiche edilizie. Oggi il tema spending review, meno spesa, più spesa, è un tema sciocco. Quello che è importante è la qualificazione della spesa pubblica. Non è importante se il debito aumenta, è importante il rapporto debito-pil. Se io creo attraverso l'uso delle risorse pubbliche più valore economico, in quel modo sto riducendo l'impatto sul debito. La storia dell'eco bonus è uno degli esempi più interessanti da questo punto di vista. È un esempio dove lo Stato ha peggiorato inizialmente il suo deficit, perché ha consentito di spalmare in dieci anni, dando una detrazione fiscale molto generosa, dal 50 al 65% a chi ristrutturava l'immobile. Ma se andiamo a valutare a 18 anni quello che è successo con questa cosa, si è attivato un sacco di pille, moltissima attività economica, che ha portato l'edilizia a diventare più ristrutturazione del territorio, e ristrutturazione efficiente da un punto di vista energetico, e non consumo di nuovo suolo, e che addirittura ha avuto un effetto benefico sul bilancio pubblico. 300 milioni di euro di guadagno nel saldo tra entrate e uscite, perché poi le entrate fiscali, eccetera. Oggi, come sapete, il governo, io la chiamo politica di laffer, della terra selettiva, cioè sugli investimenti, l'idea è che il governo deve spendere, ma deve spendere non mettendo soldi in tasca, a prescindere gli italiani che poi li risparmiano, e non fanno andare avanti l'economia perché hanno paura in questo momento, deve dare solo sugli investimenti. Oggi il dramma di questo paese sono gli investimenti, e quindi l'incentivo va dato nel momento in cui tu investi. Quindi anche libero ammortamento, 4.0, fa parte di questa serie di politica. Come sapete, l'eco bonus è stato rinforzato, un lavoro anche di spinta su questo che ho fatto assieme all'onorevole Relacci, e siamo arrivati adesso a addirittura delle trazioni fino all'85%, quando si tratta di grandi condomini che migliorano la classe energetica dell'edificio. Sui rifiuti, c'è tutto un piatto, adesso vi faccio solo, sono dei titoli questi. Andatevi a vedere il lavoro di Ciacci, che è un grandissimo studioso che ha lavorato per il comune di Treviso, ha lavorato per Parma, ha lavorato per Capannori. Sui rifiuti è chiarissima la direzione. Adesso lasciamo perdere il disastro di Roma. Andate a guardare le città intelligenti, in Italia e nel mondo. L'obiettivo è la riduzione dell'indifferenziato, che è quello che bisogna portare a discarica, che noi dobbiamo adesso portare chissà dove, eccetera, eccetera. Riduzione dell'indifferenziato, tariffe puntuali. Nei paesi civili, tra un po' speriamo anche da noi, ci sono i codici a barre sui sacchetti della spazzatura, oppure quando vai all'isola ecologica con la tessera. Quindi sappiamo esattamente quanto ognuno di noi consuma e cosa consuma di rifiuto. E la tassa che si paga è inferiore alla tasca che paghiamo oggi, perché quella è una roba, è una specie di studio di settore, che è devastante, è basato sulla metratura e non c'entra niente. Quindi si dimostra che si paga di meno in quel modo. Quindi ci sono... già esiste. Cioè l'importante è solo guardare i posti civili dove queste cose si fanno. Ancora, in che modo io favorisco tutto questo? Passo una riga sotto, con i feed in tariff. Cioè, qual è il ruolo del pubblico? Il pubblico deve usare a saldo zero i soldi che ha per incentivare il comportamento virtuoso e disincentivare quello non virtuoso. È molto semplice. Già lo fa in tre modi. Primo modo, sulle slot machine, le 5 regioni italiane fanno pagare un IRAP più alta ai bar che hanno le macchinette, che producono un danno sociale, e fanno pagare un IRAP più basso ai bar che non hanno le macchinette. Lo stesso sui rifiuti. Quindi, diciamo, creare un sistema fiscale, penso all'IVA, va rimodulata tutta l'IVA. L'IVA sui prodotti fatti sulla base di riuso, riciclo, deve essere molto più bassa. La proposta di lega ambiente. Sull'ambiente, quindi feed in tariff, è stata soprattutto il conto energia per tanti anni, che va fatto in modo intelligente. E per esempio, adesso c'è la Samaritan Tax. La Samaritan Tax, se sapete, è molto importante, adesso è diventata legge nazionale. Prima è stata in alcuni comuni sperimentata. C'è quel link virtuoso tra alberghi, ristoranti e ONG. Gli alberghi e ristoranti cedono le proprie, diciamo, i propri eccedenzi alimentari ancora commestibili, alle ONG che le danno come banco alimentare. E facendo questo pagano tasi più bassa. Quindi c'è un incentivo fiscale in Italia che premia chi fa questo. Molto interessante anche perché crea un'alleanza forte tra profit e non profit. Altro elemento fondamentale nelle smart city di solidarietà è il sostegno di inclusione attiva. Oggi viviamo in un mondo sempre più difficile dove ci saranno un sacco di espulsi. Tutti quelli che fanno i lavori rutinari perderanno con le macchine, con i lavoratori a basso costo. Saranno espulsi. Poi c'è la creazione e distruzione di lavoro. Abbiamo bisogno di strumenti, non di un reddito di cittadinanza to court, ma abbiamo bisogno di uno strumento di inclusione attiva. Pensate all'alleanza contro la povertà delle agli, eccetera. e le sperimentazioni che si stanno facendo in varie regioni, Lombardia, Puglia, eccetera, che si prenda in carico la persona povera di reddito basso e gli dia un'opportunità, una chance di inclusione, sia in lavori sociali o in lavori invece produttivi. Il best locale, cioè si possono ricreare percorsi di indicatori di benessere partecipati dal basso e costruiti dai cittadini. Penso all'esempio di Mulaus in Alsazia, che è un esempio molto bello. La deslottizzazione, quindi tutto il lavoro che adesso vi faccio vedere una cosina ancora su questo. E questo è ripetuto più o meno qui. Ma fondamentalmente, ecco, voglio spendere una parola in più su questo tema che sarebbe il terzo punto, cioè il voto col portafoglio. Allora, ripeto, noi abbiamo un potere enorme per cambiare le cose che sono le nostre scelte. Noi votiamo politicamente tutti i giorni quando compriamo i prodotti. Dobbiamo usare questo potere per fare quello di cui abbiamo bisogno, cioè premiare le aziende che sono all'avanguardia nel creare valore economico, sociale e ambientale. Questo voto col portafoglio, io ne parlo da vent'anni e tutti mi dicono, ma parli di una cosa che non esiste, eccetera. Io faccio sempre l'esempio. Quando abbiamo deciso, per bene o per male che sia, che l'olio di palma non andava bene, l'olio di palma è sparito, come dice De Gregori, il mercato siamo noi, dice la storia, siamo noi. Il mercato siamo noi. Quando noi diciamo che una cosa non va, se i consumatori si mettono d'accordo, si alza una marea e le aziende fanno quello che dicono i consumatori. Quel voto col portafoglio viene anche pericoloso, va gestito, no? Quindi è contagioso, è pragmatico, vuol dire vai, non inventare una teoria che non c'è, vai a premiare l'imprenditore migliore, leader nella sostenibilità sociale e ambientale, comprando il suo prodotto. È un atto di autointeresse perché ovviamente fa in te, è comodo a noi, premiare un'azienda ambientalmente sostenibile che tratta bene il lavoro, che paga le tasse del nostro paese, eccetera. Ci sono studi che dimostrano in tutto il mondo che tutto questo sta crescendo. Pensate che l'Eurobarometer quest'anno hanno chiesto a tutti gli europei cos'è la cosa che influenza più l'economia. Prima rispondevano sempre lo Stato, adesso rispondono i consumatori. 49% per la prima volta quest'anno. Questa è la disponibilità a pagare dei cittadini a pagare di più per i prodotti sostenibili, che è cresciuta del 10% negli ultimi tre anni in tutti i continenti. Questa è un po' l'idea, cioè c'è un problema anche di coordinamento dei cittadini e delle loro scelte attraverso il voto col portafoglio. Questo è un esempio di pubblicità sul voto col portafoglio, attraverso le due scelte può cambiare il mondo. Ci sono esempi di coordinamento di questo voto col portafoglio. A maggio scorso abbiamo fatto la Fair Trade Challenge in tutto il mondo. È stata proclamata una giornata in cui bisognava comprare un caffè solidale, quindi prodotto con attenzione al costo del lavoro e tutto quanto, eccetera. Ci sono stati comprati due milioni di tazze di caffè in un giorno. È stato il primo esempio di coordinamento globale di consumatori. Perché dico che tutto questo è contagioso? Perché oggi non c'è una multinazionale del settore alimentare che non ha copiato questo modello. Le botteghe ovviamente sono piccole, quindi è un seme che muore, ma tutte le grandi aziende multinazionali, la Illy, la Nestle, eccetera, hanno copiato l'idea, il rapporto stabile con i produttori, eccetera. Ancora, sto andando verso la chiusura, perché un esempio di smartness. Questo è un esperimento che è stato fatto negli Stati Uniti. Sapete che si parla del nudging? Sapete cos'è il nudging? Il governo può essere brutale e dire da domani proibisco i motori a benzina, eccetera, eccetera. Oppure può creare l'incentivo fiscale, oppure può fare semplicemente un nudging, può dare delle informazioni. Quando voi andate all'ATM e ritirate i vostri soldi, c'è scritto in verde, quando vi chiede la ricevuta, sì o no, alcuni bancomat hanno scritto in verde, scelta consigliata. Quindi cercano di spingere, di dirvi, guardate, questa forse è la scelta migliore. Quindi non entrano nelle vostre tasche, non cambiano il vostro set di scelte, ma cercano di spingervi nella direzione migliore. Ecco, questo è l'esempio in questo supermercato americano, dove mettendo questo cartello davanti a una vetrina, semplicemente mettendo il cartello, sono riusciti a vendere il 40% in più delle candele a sinistra, solo perché si diceva che queste candele erano socialmente e ambientalmente sostenibili. Questo stesso esperimento, noi l'abbiamo fatto, vediamo se lo trovo in, e vado poi a chiudere, in Italia, in 20 supermercati del nostro paese e, eccolo qua, abbiamo messo questo cartello sui prodotti ambientali, sui prodotti di libera, diciamo, dei terreni confiscati alla mafia e, praticamente, lavorando per sottoclassi di prodotto, eccetera, abbiamo dato i giornalieri di tutti i prodotti di questi 30 supermercati per 4 mesi, l'effetto di questo cartello è stato spostare il 40-50% delle quote di mercato all'interno dei prodotti. La gente ha comprato questi prodotti e non ha comprato gli altri. Ancora, un esempio tipico di economia a quattro mani è questo qui, due esempi ultimi vi voglio fare, importanti. Uno è, sapete che il Papa ha detto dobbiamo andare verso le fonti rinnovabili, eccetera, eccetera, no? Ma è difficile farlo. ecco, laddove oggi il voto col portafoglio è più forte è nel campo della finanza. Qui abbiamo detto spesso siamo pochi, no? Io vi sto parlando di un mondo dove cominciamo a essere anche abbastanza e anche a pesare molto. Questa roba qui si chiama Montral Carbon Pledge, è un accordo che hanno preso dei fondi di investimento in tutto il mondo che rappresentano 10 trilioni di dollari, 10 mila miliardi di dollari, che hanno deciso di cominciare a misurare l'impronta di carbonio dei loro portafogli. Una cosina piccola in apparenza ma che ha messo in ansia le aziende perché vuol dire io vendo i titoli con più alta CO2 e compro titoli con più bassa CO2. Non a caso ci sono alcune aziende del settore dell'energia che si sono totalmente riconvertite a rinnovabili, non solo per questo magari, ma anche per questo pensate alla ERG in Italia. Quindi Montral Pledge, dentro il Montral Pledge io sono in Etica SGR che è il primo fondo etico italiano di investimento e quindi sono dentro questa organizzazione e noi siamo dentro un altro cerchio un po' più grande che mi è interessante raccontarvelo qui che si chiama ICCR, Interfaith Center for Corporate Responsibility che è una rete di fondi di investimento che fanno 100 miliardi di dollari che sono stati creati da alcune suore cattoliche americane che hanno messo insieme i patrimoni degli antireligiosi e hanno creato questa bellissima storia. Ultimo esempio di economia a quattro mani è quella sul tema dell'azzardo. Noi sul tema dell'azzardo non facciamo una battaglia non facciamo una battaglia moralistica diciamo semplicemente che si tratta di un settore che non crea valore semplicemente lo estrae da persone che poverine non capiscono quello che fanno perché voi sapete io insegno finanza al PhD beh comprare un gratto e vinci o mettere un soldo in una slot machine vuol dire comprare un'azione che rende il meno 40% cioè il valore netto atteso di quella cosa che fai è meno 30 meno 40 non a caso chi è che compra sono persone con livello di educazione finanziaria più basso della media sono persone che non sanno alcuni allora noi cosa abbiamo fatto siamo andati in uno a fare appunto un'azione di voto col portafoglio un cash mob siamo andati più di 800 persone in un bar di Biella a creare qualcosa che poi è diventato virale ci sono stati 200 cash mob in tutte slot mob in tutta Italia è nata una sorta di movimento che ha attratto la buona politica io ho giocato a bigliardino col sindaco Orlando col vice sindaco di Cagliari di Brescia cioè i politici che combattevano nel segreto delle stanze comunali contro le lobby dell'azzardo si sono sentiti ben motivati e come sapete adesso stiamo facendo una battaglia quasi ci ha fatto gioco la nazionale che ha scelto intralotta è diventato uno strumento di propaganda per le nostre idee eccezionali prima dell'azzardo parlava solo avvenire adesso ci sono articoli tutti i giorni su Repubblica sul Corriere della Sera quindi ci ha fatto quasi comodo dobbiamo ringraziare che ci ha creato questa perché chiaramente è un paradosso assurdo che è un simbolo del paese dei giovani eccetera si metta come sponsor un'attività di questo tipo questi sono i risultati che abbiamo ottenuto come Italiano Slot cioè le iniziative che i vari consigli comunali regionali hanno adottato di contenimento nei confronti del fenomeno noi chiediamo due cose molto semplici di vieto di pubblicità cioè chiediamo un'equiparazione della pubblicità del fumo come quella dell'azzardo il fumo fa male non è che lo proibbiamo ma lo diciamo lo scriviamo allora uno non può andare a un tabaccaio dove c'è scritto c'è il polmone col tumore del fumo e poi ti incitano a giocare poi c'è il mosaico dei gratte vinci che ti dicono di comprare quindi chiediamo un'equiparazione diciamo della forma di informazione nei confronti di queste cose e chiediamo il divieto di pubblicità in tv si può fare pubblicità anche con altri tipi di aziende vado quindi chiudo e poi così lascio un po' più di spazio agli altri qual è la nostra diciamo linea guida in questo tema della giornalettività ma è senz'altro una citazione di Papa Francesco quando lui parla del magis come il tempo superiore allo spazio cosa intende? intende che l'attività politica non deve avere diciamo come obiettivo l'occupazione di spazi tanto per occuparli ovviamente non vuol dire questo di responsabilizzare dalla scelta di incarichi politici ma l'attività politica deve essere il mettere in moto è generativa è fertile se mettiamo in moto dei processi che cambiano le cose nel tempo processi generativi vedete quindi far nascere educare accompagnare lasciare andare la cosa molto bella degli slot mob adesso è che non dobbiamo più andare il sottoscritto e l'altro professore che l'ha inventato perché è una cosa che va avanti da sé quindi altre persone e gruppi che le porteranno avanti finché fruttifichino importanti avvenimenti storici senza ansietà però con convinzioni chiare e tenaci ecco io il mio augurio è che le smart cities e Roma che Roma diventi una smart city ma dove smart non vuol dire tecnologico tanto per essere tecnologico ma tecnologia al servizio della generatività cioè di una ricchezza di senso sociale e ambientale grazie 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 al professor Becchetti che è stato persino sintetico per quanto è denso il suo intervento adesso l'altro relatore della serata è il dottor Stefano Serafini della società italiana di biurbanismo termine che lascio a lui il compito anche di spiegarci ma sicuramente io ho fatto delle ricerche e è intrecciato alla possibilità che le nostre città migliorino diventino una cosa diversa quindi è quanto stiamo dicendo noi adesso e soprattutto alla possibilità che ci ricordava Becchetti noi abbiamo un potere enorme ogni giorno votiamo col nostro comportamento con la nostra possibilità di consumo dottor Serafini e mi allaccio all'ultima cosa detta dal professor Becchetti al quale voglio tanto bene se non altro questa cosa questa guerra contro l'azzardo che è una tassa urbana sull'ignoranza come stava definita e che è un danno un danno colossale mi ha sempre fatto pensare diciamo che il paradosso di uno stato che è diventato biscazziero una volta era proibito in Italia sia in contraddizione con l'articolo primo della Costituzione perché è proprio un incitare a seguire un modello etico che è contrario a quello della produttività della generatività in qualche modo e mi piace molto lo spirito positivo del professor Becchetti che seguo perché ha fatto tanti lavori interessanti io sono venuto a fare un po' l'avvocato del diavolo perché perché ho un senso di addirittura di paura quando sento quando entriamo nel tema delle smart cities perché vedo un po' l'aspetto l'altro aspetto diciamo l'aspetto oscuro l'aspetto sono stato all'Archimita Istanbul lo scorso anno per fare un intervento sulla biurbanistica e ho assistito all'intervento di Carlo Ratti che tutti conoscete perché è un brillantissimo giovane scienziato italiano che è un po' il papà del concetto di smart city il suo laboratorio al MIT di Boston mi ricordo come questo giovanotto che è giovane ha fatto questo intervento in cui mostrava le delizie della smart technology e in particolare ci ha fatto vedere un modello che lui aveva creato dove delle goccioline d'acqua venivano lanciate da un computer al ritmo in modo che veniva giù una parete d'acqua con delle scritte pubblicitarie la cosa interessante è che lui a un certo punto ha detto che questo sistema si è rotto quindi con grande gioia dei bambini che potevano passare avanti e indietro sotto queste goccioline d'acqua perché il sistema era impazzito e faceva cascare cascate in maniera irregolare poi la seconda cosa che ha detto è stata che con un tono molto soddisfatto che dei ladri erano entrati nel suo laboratorio al MIT e avevano rubato i computer sui quali lui stava lavorando ma non sapevano i poverini aver rubato degli smart computer che quindi tracciavano col satellite la loro posizione mandavano segnale alla polizia e addirittura scattavano le fotografie dei ladri quindi poi se l'è vista la polizia con loro il discorso che lui faceva e che è quello che fa spesso quando va in giro per il mondo è che noi stiamo migliorando le nostre città grazie all'uso della tecnologia una tecnologia che permetterà un controllo maggiore sulla realtà un controllo sugli spazi che sono abbandonati per esempio il problema dell'immondizia della gestione dei rifiuti è un problema di oscurità noi non sappiamo dove vanno questi scarti eccetera con il sistema smart noi possiamo tracciarli e questo mi fa pensare tanto a due autori uno è Orwell con questo iper controllo ricordo stavo negli Stati Uniti a un seminario sull'autenticità dell'architettura e qualcuno l'ha ben osservato non a caso era una persona che era sfuggito sia ai campi nazisti sia ai campi sovietici questo professore diceva come possiamo parlare di autenticità oggi quando tutti siamo consapevoli che mentre stiamo parlando anche in questa camera in questa stanza c'è una telecamera che ci osserva o ci sono dei microfoni ambientali che ci ascoltano è un problema reale Jean Baudrillard ne aveva parlato abbondantemente lo parlava di iper realtà cioè un modo in cui il potere diventa interno il sistema stesso quindi diciamo non abbiamo più una mano esterna la mano invisibile la mano dello Stato che controlla l'economia ma l'economia diventa tutti noi questo chiaramente ha un aspetto bello quello che dice a parlare il professore ma anche un aspetto molto oscuro per esempio l'olio di palma l'esempio che le portava si è deciso l'olio di palma è pericoloso e quindi i consumatori hanno punito i produttori di olio di palma ricordo circa 20 anni fa se non 25 anni fa con il clorofloro carburio la stessa cosa ci fu questa grande campagna mediatica in cui si diceva i clorofloro carburio erano dannosi il famoso buco dell'ozono e le industrie dei cfc vennero completamente sterminate nel giro di pochi anni ma io ho qualche dubbio sceloso questi movimenti cioè chi è che decide a un certo punto che questo è dannoso piuttosto che un altro elemento sono maligno insomma ecco la vedo un po' da questo punto di vista Oscar il professor Spengler un filosofo tedesco negli anni 20 scriveva che dare la democrazia a tutti allora si discute appunto di dare il voto a tutti anche alle donne eccetera eccetera e alle classi meno abbienti soprattutto era un danno per le classi meno abbienti perché lui scrive proprio testualmente siamo negli anni 20 ripeto cos'è la democrazia diretta la democrazia diretta è il modo in cui coloro che controllano i mezzi di comunicazione di massa spingono le masse a votare in una direzione che desiderano loro e oggi abbiamo una situazione di velocità e rapidità di influenza delle persone con oltre a questo un calo della cultura del livello culturale cioè del livello critico quando io sento parlare di smart quindi di tecnologia che penetra in ogni aspetto della nostra vita per ogni aspetto intendo che Google adesso è capace anche di dirvi quante volte voi andate al bagno mentre state in casa vostra grazie all'uso di questi aggegini qua che noi abbiamo tutti quanti portiamo appresso cosa vuol dire non è che Google sia interessato a quante volte voi andate al bagno ma può controllare e profilarvi molto meglio di quanto voi stessi possiate su voi stessi cioè entriamo in una fase di ipercontrollo dove non c'è nemmeno più bisogno del grande dittatore perché il dittatore diventa in qualche modo fragmentato all'interno della stessa comunità e questa smartness diciamo io parlo di smart cities for dumb citizens a volte noi abbiamo una città intelligente con cittadini ottusi ottusi perché sono assorbiti in un continuo informativo che non permette la possibilità di fermarsi e giudicare criticamente allora mi piace quello che Becchetti dice perché sostanzialmente lui è un hacker secondo me cioè sta cercando di entrare all'interno di questa di questa società che è una società del controllo e di portare valori culturali non a caso ci ha parlato della sua formazione come studente poi come docente ma questa non è una cultura comune professor Becchetti e e questo a me spaventa quindi io voglio portare un po' la biorbanistica è una disciplina che abbiamo non si può dire fondato una cosa del genere ma insomma un gruppo di studiosi un matematico il sottoscritto sono un filosofo un architetto e un biostatistico abbiamo deciso di cominciare ad approcciare il concetto di città nella sua interezza come un organismo non è un concetto nuovo perché c'erano autori che già all'inizio del secolo scorso parlavano della città come un organismo il concetto di organismo è cambiato negli ultimi vent'anni quello che veniva considerato organismo alla fine dell'ottocento nei primi del novecento era una macchina sostanzialmente molto complessa come si vuole ma comunque una macchina una macchina con una logica lineare oggi abbiamo un approccio completamente differente alla città che ci permette di intervenire su vari livelli che compongono quella che noi chiamiamo polis il discorso è abbastanza complesso adesso non parlerò qui della biorbanistica voglio solo soffermare sulla smart city però abbiamo questa idea dove anche Becchetti ne ha accennato a questo noi abbiamo un livello dell'infrastruttura urbana noi la chiamiamo urbs quindi la macchina diciamo entro la quale i cittadini vivono ed è una macchina che per esempio gli stessi Marx e Engels giudicavano con sospetto cioè loro dicevano ma perché la città moderna è così brutta Marx e Engels non avevano molto da fare loro scrivono e basta quindi avendo molto tempo libero si scrivono su qualsiasi argomento uno di questi era la città Engels andò a visitare Londra e scrisse un suo dettagliato rapporto sulle terribili condizioni degli esseri umani che vivono dentro questa grande città che era la capitale per eccellenza la grande la grande urbs e lui si diceva beh ma è ovvio la città moderna diventa brutta perché è frutto del capitale il capitale ha interesse a spezzare le relazioni sociali quindi via le piazze via i luoghi gradevoli via i luoghi di incontri dobbiamo avere solo corridoi per il trasporto di merci e di valori economici quello è lo scopo della città una grande fabbrica ora se voi andate a vedere una città contemporanea un esempio per me brillante è Rotterdam sono città graziose Rotterdam è la città la città del design quindi abbiamo questi palazzi strani questi ponti arditissimi eccetera tutto è estremamente pulito io ricordo un tipiaggio fatto da Rotterdam tre anni fa e ho trovato un solo graffito su un muro e c'era scritto è questa la felicità? beh la città sembra un enorme supermercato un grosso centro commerciale è tutto perfetto c'è persino l'omino che gira come si chiama l'organetto pagato da qualcuno per fare un po' di musica dentro il centro commerciale e questa è la felicità c'è un'economia sicuramente dove tutto va bene dove le persone sorridono gli olandesi sorridono molto e dove però trovate mi spiace dirlo una grossa piattezza e una mancanza di profondità umana con tutto il rispetto a queste bellissime persone insomma quando vado a parlare di design urbanistico il mio interesse è nato in che modo fin da bambino io giravo per l'Italia e vedevo ma come mai quando esco dalla città vedo delle cose tanto belle anche la casetta fatta dal contadino è bella è armoniosa è ben inserita è un sentimento più o meno abbiamo urlato tutti poi vediamo delle cose moderne costruite dopo gli anni 50 e sono brutte sembrano fuori posto in qualche modo perché come mai abbiamo perso questa capacità che è successo l'inquinamento ci ha fatto male al cervello eccetera no chiaramente sono entrate delle nuove norme queste norme rispondono a degli interessi di tipo economico e sono in contrasto con dei valori che in realtà noi portiamo dentro e che ancora ci fanno stare male quando vediamo Corviale per esempio ed è il motivo per cui andiamo magari in vacanza al Circeo piuttosto che a Corviale nonostante alcuni amici architetti dicono che Corviale è un capolavoro hanno provato tre volte a trasformarlo in un monumento nazionale noi siamo riusciti a opporci almeno due volte siamo riusciti a fermarli ora dal punto di vista dell'applicazione del design di cosa mi preoccupo che il design faccia star bene le persone star bene cosa significa? beh parto da qualcosa di molto elementare non ideologico parto proprio dal bios dall'aspetto fisico cioè se io oggi ho la strumentazione tecnica mi permette di misurare se io ho un rilascio di catecolamine nel mio flusso sanguigno se io ho un aumento della pressione arteriosa se io ho un dilatamento della pupilla davanti a certi oggetti di design e posso misurare degli effetti reali sul sistema cognitivo umano come si sente il cervello diciamo in certi contesti come si sente il nostro stomaco davanti a Corviale poi lì si può discutere di estetica non entro mai nell'estetica l'estetica tra l'altro è una disciplina moderna che un antico romano un antico greco non avrebbe compreso per un greco estetica è una disciplina dei sensi no? l'estetica è stata inventata da Baumgarten e viene non a caso dopo Galilei parecchio dopo Galilei perché la scienza galileiana cosa fa? sistematizza delle dimensioni fisiche che noi possiamo misurare e tutto ciò che non rientra in queste dimensioni fisiche oggettive non è controllabile e poi è arrivata l'estetica quindi che succede? io vedo un ballo balinese non capisco nulla di cultura religione antropologia balinese però posso dire quanto è bello lo impacchetto e lo vendo a un turista ok? quindi è un'altra forma di controllo anche l'estetica la guardo sempre con sospetto misuriamo invece il luogo del design della progettazione urbana quindi un luogo eminentemente sociale di interazione dal punto di vista del nostro corpo e poi del corpo sociale cioè in che modo un certo modo di costruire produce degli effetti sulle relazioni umane noi adesso faremo una cerimonia il mese prossimo abbiamo nominato membro onorario della nostra società internazionale di biurbanistica Farmo Al Sabuni che è una giovane architetta siriana che si è posta a una domanda diceva vabbè chiaramente la guerra di Sire è una guerra proxy ci stanno gli americani ci stanno i russi eccetera ma lei dice il modo in cui le nostre città sono state costruite in che modo è responsabile o corresponsabile del disastro nel quale siamo finiti lei scrive da Aleppo Aleppo era una città bellissima era completamente rasa al suolo ma prima di essere stata rasa al suolo era stata trasformata radicalmente nella sua architettura e nella sua urbanistica l'urbanistica mediterranea caratterizza tutto il nostro bacino è un'urbanistica molto antica noi abbiamo dati che raccolgono vengono raccolte le norme con cui costruire e disegnare una città già nel quinto secolo Giuliano di Ascalona ha fatto un importante trattato in cui riassume queste norme sono norme di buon senso bellissime fra l'altro stiamo cercando di recuperare con un gruppo di studi insieme al professor Bessima Kim e le si ritrova in tutto il bacino del Mediterraneo e si basano su alcuni principi dodici e cinque metaprincipi una cosa molto molto semplice sono regole molto semplici che però applicate producono una complessità estrema ed estremamente funzionale noi stiamo cercando di riattivarla abbiamo cominciato con la regione Puglia abbiamo preso dei piccoli paesi i cui centri storici sono completamente abbandonati sono di una bellezza straordinaria e recuperarne non la forma esterna la nostra legge italiana molto ben fatta cerca di preservare i centri storici li mantiene sotto una teca di cristallo non c'è economia in questi centri storici quindi vengono abbandonati e man mano decadono perché nessuna forza dello Stato può tenere in piedi il glorioso patrimonio che ci hanno lasciato i nostri antenati l'idea nostra è di recuperare il codice genetico che ha prodotto quelle forme quel codice genetico è in parte scritto il codice giuliano lo troviamo lo troviamo in alcuni codici arabi nelle leggi romane antico romane eccetera in parte non scritto va recuperato in qualche modo perché erano delle norme verbali perché erano talmente ovvie per le persone vi faccio solo un esempio se io vengo a costruire la mia casa dove esiste già qualcuno che ha già una sua casa il padrone di quella casa è obbligato a permettermi di inserire le mie travi sul suo muro principale principio di interdipendenza a mia volta però io sono obbligato per esempio a rispettare lui che c'era prima e non aprire una finestra sulla sua finestra perché devo rispettare il suo diritto di privacy non posso occludere la visuale del mare a nessuno non è una questione di più ricco più povero cioè non posso per cui la forma delle città marinare noi abbiamo in tutto il Mediterraneo sono degradanti e permettono a tutti di avere una vista meravigliosa sul mare e non posso fare ombra sul suo giardino e così via poi ci sono altri principi molto belli che sono ormai talmente lontani dalla nostra mentalità smart diciamo così uno di questi a me piace tanto è il concetto è poi stato molto sviluppato dall'Islam di bellezza senza arroganza concetto molto bello per cui caratteristico vedete non solo nelle città nordafricane ma anche nel sud Italia vedrete delle facciate bruttine insomma modeste semplici che si mesclano il povero con il ricco eccetera e poi l'interno è sfarsuoso bello elegante gradevole per farla breve la mia preoccupazione è che questo concetto di smartness una di queste parole alla moda che nasce come una moda nasce come un brand di grosse società come la Cisco la IBM eccetera per vendere alta tecnologia a strutture urbane importanti e che hanno sicuramente delle funzioni utili venga a sostituire in un contesto urbano cioè politico il concetto stesso di cultura credo due giorni fa un ministro della Repubblica ha detto che abbiamo un problema in Italia e cioè che c'è troppa cultura classica e questo impedisce di sviluppare fra i giovani il senso di competizione queste cose mi fanno rabbrividire quindi sull'onda di queste della emode a cui c'è un libro questo l'ho curato insieme al professor Binok Kumar un signore molto simpatico un ingegnere indiano che mi ha scritto dice guarda vorrei collaborare insieme a te facciamo un libro sulle smart cities perché il governo indiano vuole smartizzare le più importanti città dell'India quindi stanno investendo una cosa come 60 miliardi di euro in questa operazione una cosa spaventosa e quindi gli serviva una guideline loro dicono il modello europeo è quello che ci interessa di più rispetto a quello giapponese quello americano non esiste un concetto di smart city americana come modello diciamo e ho detto guarda io scrivo brutte cose sulla smart city mi aspettavo che mi cacciassero invece no devo dire ingegneri architetti eccetera allora hanno una cultura in India filosofica quando hanno sentito questa critica hanno cominciato a citarmi Mahabharata eccetera tradizioni filosofiche antiche e questo mi ha fatto molto piacere dopodiché abbiamo pubblicato un altro libro uscito adesso per Springer che si occupa dell'economia smart nelle smart city cioè è stato un anno di ricerca su 22 città nel mondo città smart per vedere dopo un anno di attività che cosa avevano prodotto io mi sono occupato di Bologna insieme a due colleghi il risultato non è stato molto brillante nel senso che sicuramente Bologna è una città meravigliosa che ha una cultura di cui parlava il professor Becchetti prima una cultura del coordinamento sociale a Bologna c'è stato il caso bellissimo del My Street in pratica è un giovanotto che ha cominciato a usare Facebook per contattare le persone che abitavano sulla sua stessa strada noi tutti usiamo questi social media no? lui che ha fatto? diceva invece di parlare con quello che sta in America con quello che sta a Milano eccetera voglio trovare chi abita sulla mia via si sono ritrovati una trentina di persone dopodiché hanno cominciato a uscire per strada lasciare i computer dietro e fare non so dei banchetti insieme uscire insieme e così via cioè si è creato un movimento molto piacevole dove si è tornati dal virtuale al reale un'ultima nota e questo è un aspetto molto importante la sostituzione della cultura con la smart nel cosa significa? è un processo di dematerializzazione questa dematerializzazione che chiaramente è evidente dal punto di vista tecnologico ha un aspetto antropologico fondamentale vuol dire che noi stiamo rifiutando il tempo e lo spazio perché sono delle dimensioni che non esistono più oggi quando si parla di urbanistica chiaramente sì l'infrastruttura urbana è importante chiaramente è una cosa di cui non si può fare a meno eccetera ma se voi osservate le città oggi vivono in una specie di flatland cioè persone che sono cittadini di un contesto che è integrato all'immateriale io ricordo stavo a San Pietroburgo no a Mosca all'aeroporto di Mosca ho dovuto salvare dall'ira di un autista autista russo che non capiva cosa farà su due giovanotti americani che non capivano come pagare il biglietto eccetera e a certo gli dico loro ma scusate perché voi non parlate russo diciamo noi stiamo qui da due anni diciamo avete imparato due parole non sapete dire come si paga il biglietto dice no perché noi viviamo in un grattacielo dove facciamo il nostro lavoro tutto in inglese siamo connessi via telematica e non abbiamo nessun rapporto con quello che sta sotto c'era un discorso a fare pure sui grattacieli ma è una cosa comune non è strano quindi è una cosa che ormai vive ovunque e l'urbanizzazione smart esiste già è un contesto parallelo che si è in qualche modo portato su un altro pianeta rispetto a quello in cui viviamo e d'altro canto noi abbiamo una realtà che rischia di venire completamente spazzata via a Verona ho incontrato il professor Sergio Los che è una figura che io stimo moltissimo un architetto italiano il padre della bioclimatica l'architettura bioclimatica il quale si è uscito con una battuta che a me è piaciuta molto i piccoli centri storici italiani sono incompatibili con il sistema questo a me piace molto perché io ho deciso di andare a vivere in un piccolo centro storico italiano si chiama Artena un piccolo borgo a sud di Roma dove ho cominciato dei progetti per portare economia e per imparare delle cose io ogni anno adesso mi sono fermato a un paio d'anni faccio una scuola internazionale di biurbanistica e vengono studiosi da tutto il mondo giovani ora Artena per chi non la conosce è una specie di termitaio risale costruita nel XII secolo distrutta 4-5 volte dai papi ricostruita ogni volta eccetera l'ultima nel 1586 addirittura seminarono col sale la terra della piazza principale Papa Paolo IV era terribile ma in questo borgo che sta venendo abbandonato esiste ancora una realtà antropologica di resistenza che è legata anche al design alla progettazione al modo di costruire io prendo questi giovani studenti di architettura di urbanistica li porto lì a vivere nelle casette non ci si arriva con l'automobile ci si può andarci a piedi o a dorso di muro vivono e incontrano la popolazione che tende a essere piuttosto anziana e hanno uno shock culturale impressionante 10 minuti a piedi scendono nella valle dove c'è la città moderna costruita già negli anni 50-60 e quindi hanno questo vista d'occhio immediato sulla differenza strutturale fra il costruito di tipo medievale e il costruito di tipo moderno contemporaneo e questo permette loro di fare un lavoro critico molto interessante il mio lavoro è dedicato proprio a questo a recuperare questi contesti dove la smartness è una questione culturale qui dico una cosa molto banale molto vecchia cioè quello di cui abbiamo bisogno oggi è cultura perché cultura cosa intendo? non i libri qui si parla di crisi economica non c'è una crisi economica il mio amico Nino Galloni dice non c'è crisi economica perché per la prima volta dopo 7000 anni di storia noi buttiamo la roba da mangiare abbiamo talmente abbondanza che la buttiamo quindi non c'è una crisi economica c'è una crisi culturale una crisi mentale una crisi dove noi non riusciamo più a riconoscere la nostra identità in un contesto che si è rapidamente fluidificato a dei ritmi impressionanti per cui è difficile proprio stargli dietro ci manca il silenzio ci manca il tempo la maggior parte delle persone che stanno sui social media hanno in comune un sentimento di angoscia dovuto al fatto che non gli basta il tempo non è un caso allora ricominciare da un discorso antropologico una smartness antropologica diciamo così in contrasto a una struttura una struttura smart che di smart secondo me ha poco grazie professore Serafini lei ha cominciato molto male ha detto faccio l'avvocato del diavolo proprio qui però sei ripreso alla fine e al centro e al centro ha messo l'uomo quindi la crisi non solo della finanza e della globalizzazione ma la crisi e la difficoltà dell'esistere e in questo si è poi richiamato all'intervento introduttivo io due righe che ho copiato da una didascalia della quadriennale d'arte a via nazionale in corso di svolgimento ve la consiglio insomma è una bella un bel un bel percorso io sono stato domenica con la mia famiglia a un certo punto in una sezione dedicata all'innovazione tecnologica e a internet si dice sono proprio due righe negli ultimi la condizione dell'uomo negli ultimi 25 anni è migliorata peggiorata sicuramente è cambiata evoluzione tecnologica e internet una condizione che l'uomo ha prodotto ma non è stato istruito ad abitare ecco troppo spesso ci troviamo di fronte a queste cose che abbiamo prodotto noi prendiamo gli ultimi 25 anni dal 1990 in poi e che però non siamo abituati non siamo capaci non siamo istruiti e qui forse la crisi la crisi di cultura di spaisamento è prevalente non siamo abituati ad abitare è quasi che si impossessino loro di noi delle nostre città ecco 19 e 30 un po' di domande e poi padre Giovanni la manna prego chi rompe il ghiaccio Carlo si intanto una una premessa per Giuseppe Piraino perché questo è il terzo anno che io vengo qui a vari titoli ma comunque sono presente il compito che vi o ci aspetta dopo l'incontro di oggi di quanto ho sentito fino ad oggi è abbastanza arduo perché mai ho trovato in questa sede una un interesse così forte per quello che i due relatori hanno detto e quindi il proseguo dei prossimi conti sarà difficile da tenere alto a questo livello dico questo perché personalmente mi ha interessato molto e forse mi chiedo forse è la prima volta dove non abbiamo politici tra i parlo di questa sera e forse l'interesse è dovuto principalmente a quello io comunque cerco di essere vorrei elevarmi a dire cose difficoltose invece mi ha interessato soprattutto la parte finale ma anche all'inizio parlavate di la difficoltà dei borghi dei centri storici di poter essere smart adesso presumo che voi parliate non soltanto del piccolo borgo di Artena oppure di un altro paesino ma anche di un centro storico di Roma ci può essere un futuro migliore innanzitutto ci può essere un futuro per questi centri io ho sposato una veneziana e Venezia è una città che è disabitata quasi dai veneziani sempre sempre di più possono avere siccome noi siamo soprattutto nel mondo veniamo visti come il paese il meraviglioso paese di questi borghi di questi centri storici della storia possono avere un futuro oppure chissà quando fra secoli e secoli saranno completamente abbandonati lo chiedo a entrambi ovviamente raccogliamo magari un po' di osservazioni prego presentatevi così sono Ferdinando Terranova adesso sono in pensione ma sono un professore di tecnologia dell'architettura e queste tematiche diciamo noi le affrontiamo sotto sia pure sotto un'altra angolatura e sotto questo aspetto io ringrazio entrambi i relatori che che hanno contribuito alla mia cultura tra virgolette ecco io credo che noi dobbiamo anche sfatare questa cosa dei consumatori il consumatore decide ma che decide se tutto passa attraverso i sistemi di comunicazione di massa impongono i prodotti e via dicendo questo è il primo discorso che andrebbe riesaminato con attenzione l'altra cosa è che questo benedetto paese non avendo una legge urbanistica continua a costruire e si costruiscono in maniera tale che praticamente ogni giorno ci sono otto grandi stadi quindi le dimensioni di otto grandi stadi che vengono cementificati e questo è un altro aspetto che andrebbe a mio avviso molto esaminato come altri aspetti vanno nelle legislazioni quotidiane nella misura in cui diciamo lo Stato taglia le risorse agli enti locali ma i sindaci come fanno a erogare servizi sociali gli erogano soltanto attraverso le licenze di lizi parliamoci chiaramente stiamo sempre volando alto scusate io vengo da una cultura di tecnologia quindi hard non quella soft però è questa la realtà italiana è questa ecco io vorrei che su queste cose anche ritengo che il contributo dato da Becchetti è molto interessante però mi sembrano che siano cose che come dire vanno alte però non incidono su quella che è la realtà di questo paese grazie grazie altri contributi prego mi chiamo Mario Ciampi insegno storia delle istituzioni politiche io se capisco bene da profano diciamo lo sforzo che il professor Becchetti e tutta la scuola di economia civile sta facendo e quella diciamo mi passi la banalità di adeguarsi a quello che passa il convento ma introducendosi diciamo in questa come dire offerta macro che è quella dell'economia contemporanea trovando degli spazi di socialità degli spazi di eticità il problema probabilmente però in questo mi trovo concorde con la filosofia del secondo intervento probabilmente è sui principi generali cioè sul modello economico mi richiamo in particolare ad una lezione Giuseppe Tognolo del 1873 dell'elemento etico come fattore intrinseco delle leggi economiche quando effettivamente Tognolo dice il problema è l'eticità che sta alla base del modello economico e lui ovviamente diceva che una eticità di matrice utilitaristica positivistica e individualistica non può che produrre diciamo un certo modello economico al quale lui opponeva ovviamente un modello di matrice cristiana e quindi questa è un po' la provocazione che volevo lanciare siamo sicuri cioè è corretta questa mia banalissima analisi cioè non siamo in grado oggigiorno probabilmente di proporre noi un modello economico e dobbiamo semplicemente giocare di rimessa cercando come dire di trovare quell'interdipendenza su base etica che ci consente diciamo lo spazio che questo tipo di economia contemporanea ci lascia nel mio ambito di studi io vedo una cosa che probabilmente si lega al secondo intervento lei richiamava ogni tanto l'organicismo almeno io l'ho letta così la democrazia organica effettivamente un senso di interdipendenza originario ovviamente l'applicava al suo campo di studi oggi quello che c'è probabilmente e questo è la smart politics cos'è plebiscitorismo e più diciamo si intensificano le tecnologie a disposizione della politica contemporanea più come dire cresce il potere del marketing più decrescono come dire le frapposizioni dei corpi intermedi per esempio i partiti i sindacati tutto ciò a cui siamo abituati dalla nostra cultura ottocentesca e novecentesca quindi saremo in grado a breve di pigiare su un pulsante e di simulare una vacua apparente democrazia diretta che in realtà è etero diretta da chi ha le leve del marketing politico questa è quella che francamente mi spaventa di più nelle evoluzioni del sistema politico contemporaneo cioè un tendenziale plebiscitarismo a matrice tecnologica non so se si trova d'accordo con questo grazie grazie professore chiudiamo qui le domande ci sono altre allora qualche minuto per le repliche e poi il padre Giovanni la manda da dove iniziamo Becchetti Serafini a me è piaciuto moltissimo il suo intervento infatti gli chiede diventerò materiale diventerò un suo cantore perché ci trovo quello stesso diciamo umanismo che noi mettiamo nella nell'economia però stavo pensando però che forse ecco io sempre magari per il mio carattere sono meno pessimista stavo pensando che abbiamo chiuso da poco una legge sui piccoli comuni e la legge sui piccoli comuni è una idea proprio di far rinascere i nostri borghi mettendo delle risorse a disposizione per le ristrutturazioni mettendo la banda larga quindi un mix di nuovo e di vecchio perché l'idea almeno di alcuni amici che stanno in politica e con cui vado molto d'accordo è questa cioè l'Italia se vuole essere competitiva nel mondo moderno deve distinguersi per quello che è cioè nella specializzazione mondiale cos'è l'Italia è il paese degli alveari è il paese della tecnologia no è il paese dove a detta dei cittadini del mondo si vive bene la gente ha il gusto del vivere o almeno così se l'immagino vedono i film le cose dove si mangia bene dove ci si è e dove ci sono i borghi che io mi ricordo quando io stesso ero studente in Inghilterra vedevo un balcone e mi commuovevo perché vivevo in un mondo alla Orwell in quel momento esatto quindi e capivo la commozione di quelli che stavano lì allora il nostro destino la nostra mission secondo me competitiva è proprio questa e se ho un po' l'ottimismo che ho dov'è è che in fondo io ho sempre uno spirito positivo le persone cercano sotto sotto il bello a meno che non siano è qui la vera questione la domanda che vorrei a te ma si riesce ad anestetizzare completamente dal gusto del bello cioè è possibile che questa cultura in cui viviamo uccida perché se il gusto del bello resta la gente è disposta a pagare per il bello e il mercato cerca anche di produrre magari non è che al 100% ma deve produrre luoghi belli dove magari la gente va in vacanza dove si ricrea ma c'è bisogno di creare e questi luoghi belli hanno un loro successo ok quindi questo io vedo uno sforzo molto forte e in futuro l'economia sarà molto più soft che hard quindi il valore si creerà molto in questi ambienti emi della cultura eccetera e l'Italia secondo me ha questo però chiaramente l'altra cosa che voglio dire sul mio tema però anche questo appunto è il mio tema perché BES per noi BES uno degli indicatori che a me piace più del BES è qual è la percentuale di persone che vedono da propria finestra un paesaggio degradato questo è uno degli indicatori del BES quindi è uno degli indicatori del benessere è anche un indicatore di valore dell'immobile quindi alla fine il bello entra nell'economia e secondo me l'unico antidoto al male è il bello cioè il bello è un antidoto al male se io vivo nella bellezza cioè sono teologi mi hanno detto la bellezza salvare il mondo la bellezza può fare molto e dicevo nel mio campo mi è piaciuto sì io sono un hacker è vero noi siamo degli hacker cioè noi entriamo nel sistema per cambiarlo per svuotarlo dall'interno con quelle che sono le nostre idee prendendo il toro per le corne usando i nostri strumenti l'altro strumento di cui non ho parlato che noi usiamo è quello dei social io ho scritto un libro che si chiama wiki economia cioè io teorizzo la presa la presa di potere dei social cioè noi dobbiamo entrare nei social e addirittura abbiamo tematizzato con la CEI i corsi per social animators insomma per social e il tema è che noi dobbiamo entrare lì dentro perché non possiamo abbandonare questo luogo terribile orribile ai quelli che fanno E3 speech al rancore che è la nota dominante del nostro oltre agli ignoranza rancore misto ad ignoranza che è la nota dominante del nostro paese che è un rancore che è alimentato diceva Derida ieri a un convegno in cui stavamo assieme dall'insicurezza sociale e dalla povertà spirituale ha fatto una sintesi bellissima povertà spirituale in sicurezza sociale producono questo rancore allora noi abbiamo il dovere di abitare quei luoghi e di far sentire in quei luoghi una voce diversa quindi io comincerò a mettere link a cose che ha fatto lui eccetera perché attenzione lì si forma una parte molto importante della cultura di oggi se voi guardate io vedi un vecchio film fino alla fine del mondo di Wim Wenders è uscito solo qualche decina di anni fa e sembrava una roba fantascientifica erano tutti immersi in un video allora non esiste infatti fu finanziato dalla Sony quel film che già sapeva probabilmente dove andava a finire se voi oggi vi girate per strada sulle metropolitane persino quando siete fermi ai semafori voi vedete tutte persone che stanno così quindi voglio dire ci siamo arrivati a quel mondo quindi secondo me dobbiamo usare anche quello strumento e quanto riusciamo a ecco l'ultima domanda era se il nostro modello è veramente alternativo quello dell'economia civile allora è un modello radicalmente alternativo se si arriva al punto finale cioè nel suo esito finale un sistema dove c'è la persona e non l'emo economicus dove c'è un'azienda che non massimizza il profitto ma crea valore sociale ambientale dove il valore il best e non il pila è un modello radicalmente diverso cioè è proprio un altro mondo il problema è che questa diversità dipende dalla quota di persone che si mettono in gioco che votano col portafoglio che diriscono i fondi etici che è lì cioè il cambiamento non è la radicalità del cambiamento non è nella nella nostra tria c'è tutta ma è una potenza che diventa che non è che è un dittatore che dice da domani facciamo così è una potenza che diventa atto se riusciamo a convincere i cittadini per cui il nostro lavoro H24 è questo sui social scrivendo blog gli articoli televisione cioè noi lavoriamo per questo cambiamento e poi noi poi siamo felici del nostro seminare diciamo come si dice come dice un amico gesuita di Padre Lamanna noi dobbiamo il raccolto non dipende da noi l'importante è che noi seminiamo e ovviamente siamo contenti se riusciamo a raccogliere per cui ecco la linea è tracciata e chiaramente io per incoraggiare racconto quei casi di successo che non mi sembrano banali insomma sono casi di successo interessanti ovviamente non è il tutto allora ho preso un po' di note sulle domande se non ricordo il futuro dei centri storici c'è un filosofo russo si chiama Berdiaev che ha scritto una cosa molto interessante sulla rivoluzione lui era venne addirittura intervistato da Felix Zercinsky che era il capo della GPU quello che fondò il futuro KGB che era un fanatico lui analizzò questo filosofo religioso che era Berdiaev alla fine dopo sei ore di interrogatorio disse va bene non ti uccido perché non sei realmente pericoloso sei però incompatibile con il nostro sistema vai via la famosa nave dei filosofi che i sovietici cacciarono dopo la rivoluzione di ottobre e Berdiaev dice la rivoluzione non è qualcosa che si può fermare è qualcosa che avviene è come il terremoto è una punizione divina in qualche modo qualcosa che deriva da quello che è dei nostri peccati in qualche modo quindi è inutile mettersi a contrastarla anzi chi la contrasta con i russi bianchi fa il gioco del nemico perché? perché cosa vuole fare? vuole portare indietro una lancetta del tempo a quelle condizioni che hanno portato poi alla rivoluzione lui dice chi è che veramente spegne e uccide la rivoluzione? il suo figlio migliore e fa l'esempio di Napoleone con la rivoluzione francese Napoleone era la stella massima della rivoluzione francese è quello che l'ammazza quindi lui dice in qualche modo noi dobbiamo bere l'amaro calice cioè non possiamo metterci in opposizione quindi per questo io apprezzo molto il lavoro di Becchetti perché insomma in qualche modo lui fa il surfista sull'onda e quindi questo va bene i centri storici noi abbiamo un po' l'atteggiamento dei russi bianchi con i centri storici cioè li vediamo sono romantici sono belli li vogliamo salvare facciamo una legge di protezione in modo che non si possa toccare neanche il mattoncino eccetera eccetera ma questi muoiono cioè in realtà non stiamo non siamo più in una società agricola che è quella che ha prodotto quel tipo di quel tipo di civiltà urbana bellissima viviamo ormai in un contesto che è quello appunto dell'homo economicus dove dobbiamo ricostruire tutto cioè dobbiamo ingoiare questo amaro calice e però produrre da questa amaritudine un frutto nuovo un frutto positivo perché i classici non sapevano di essere classici e noi dobbiamo essere i classici di oggi non possiamo fermarci in uno spirito storicistico aspettando di diventare qualcosa che non potremo essere mai dobbiamo essere noi stessi i centri storici attraggono ancora la mia preoccupazione lì è quella di non trasformarli in un luogo di turismo giustamente Becchetti si riferiva alla cultura intesa anche come strumento economico quindi un fattore materiale che attira per esempio il bello inteso il senso del bello qualcuno chiedeva se possa essere anestetizzato del tutto anestetizzato del tutto sicuramente no ma commercializzato sì è questo che mi preoccupa di più cioè il sentimento del bello ha perduto in qualche modo un suo senso del metafisico un suo senso dell'oltre del significato dell'umano che noi possiamo ancora recuperare che sta lì il bello in quanto tale è rilevante ma è rilevante in quanto oserei dire categoria trascendentale di qualcos'altro altrimenti è un oggetto come gli altri e questo vale anche per la bellezza dei nostri centri storici il mio io lo considero un po' un maestro il professor Besima Kim adesso ha quasi 80 anni questo è un signore che conosce quasi nessuno nessuno quasi lo conosce è un architetto si laureò a Harvard negli anni 50 e per farsi un regalo si preseva una motoretta e si fece tutta la costa italiana in motocicletta e lui guardava questi piccoli borghi questi piccoli paesi rimaneva ammirato quanto sono belli come tutti quelli che fanno questo percorso dicono però si fermò e disse ma perché sono così belli cioè si chiese il perché di quella bellezza e con lui ho fatto 20 giorni stupendi andando in giro per tutto il Lazio visitando questi piccoli centri studiando le caratteristiche tipologiche eccetera dove ho imparato come quel bello che noi vediamo che ci colpisce tanto in realtà è bello perché è un bello sociale cioè ci parla di un'umanità di un'antropologia che noi non abbiamo più che stiamo perdendo questo non vuol dire che noi non abbiamo valori eccetera perché se stiamo qua a parlarne forse ci sarà un motivo quindi il fatto di portare tecnologia alla banda larga sui piccoli comuni per me è un'ottima cosa io ho fatto un progetto simile con la città di Carpine Toromano insieme a mio amico Marco Fioretti che forse tu conoscerai insomma è un signore che si occupa di fare smart cities dal basso cioè lui prende i cavi elettrici lega un vecchio computer usato al bar del paesino e così il vecchietto si può fare il documento dal comune anche il comune è chiuso queste cose così gli piace tanto fare l'internet in terra con quattro soldi e così via un po' uno smanettone e queste sono tendenze interessantissime però dobbiamo stare molto attenti io ho combattuto nella zona dei Monti Lepini contro una società che si chiama Dazitalia è una multinazionale che ha deciso di fare il turismo per l'Italia vera cioè portare i turisti nei borghi e il suo slogan è molto intelligente dice che stai a fare sotto la pioggia di Birmingham disoccupato quando invece ti vai a fare 20 giorni in Italia a 7 euro al giorno e impari un mestiere e l'idea è di insegnargli loro che sono un mestiere come fare il falegname o qualcosa del genere idea brillantissima bella piena di frustrini in realtà è un modo molto astuto di impossessarsi dall'interno allargare quel mercato che già esiste che rende tutto piatto e che riduce anche l'esperienza del borgo adesso ci sono i turisti che vanno in giro per il borgo sono persone che non vogliono il grande turismo cercano un'esperienza autentica stanno alla disperata ricerca di quell'autenticità che non trovano più da nessuna parte ma se noi la trasformiamo in un prodotto da multinazionale diciamo quanto è bella l'autenticità l'abbiamo già distrutta e questo è il mio dubbio diciamo c'era un'altra domanda che parlava della tecnica come azzeramento dei corpi intermedi dal punto di vista politico io direi sono molto d'accordo ma questa tecnica funziona anche come termine come azzeramento dei termini di riferimento non solo dei corpi intermedi cioè giustamente Becchetti dice non c'è il il grande fratello che impone un sistema di controllo mediocratico ma la mediocrazia ormai è sulla sia dal grande dittatore sia dal popolo è qualcosa che diventa essa stessa popolo e dittatore in uno questa è la grande rivoluzione diciamo antropologica e politica nella quale noi stiamo immersi e chiaramente ripeto non possiamo opporci dicendo creiamo una situazione di stato politico forte che si oppone alle multinazionali per esempio che creano questo sistema mediocratico non è possibile e probabilmente anche controproducente ma dobbiamo essere consapevoli e da lì cercare una soluzione una via d'uscita a questo sistema come si fa? non lo so io sto cominciando a scoprire delle cose interessanti ne provo nei piccoli borghi in particolare in Puglio ho trovato dei movimenti molto interessanti ma anche nel Salento a Salerno ci sono dei piccoli centri abbandonati che proprio per la loro bellezza attirano dei giovani professionisti generalmente architetti eccetera che vanno lì si prendono queste case abbandonate le ristrutturano le sistemano e cominciano a creare un'economia del valore basata su parametri differenti e torniamo a un discorso che è quello che la mia collega Sara Bissen che qui definisce come rurale il termine di rurale negli Stati Uniti è un termine molto particolare un po' diverso come lo usiamo noi però lei ha studiato questo fenomeno per esempio in Sud America in Turchia e ha visto la ruralità come una categoria metapolitica una categoria antropologica tu puoi trovare il rurale per esempio nell'immigrato siriano a Istanbul che ha un tipo di relazione sociale che gli permette di sopravvivere all'interno di un contesto dove noi vediamo 400.000 immigrati l'anno in una sola città Istanbul 12 milioni di abitanti ma 400.000 immigrati sono tantini queste persone entrano nelle crepe del sistema nel sistema urbanistico stesso vanno a vivere nei posti abbandonati li rivivificano e li reinterpretano non è che stanno lì a rispettare il mattoncino eccetera ma rivivendoli ricreandoli gli ridonano quella classicità che avevano un tempo che era andata perduta la stessa cosa avviene in qualche modo in maniera un po' più tranquilla in Italia abbiamo questi giovani che non hanno uno spazio nell'economia né come consumatori né come produttori e quindi si stanno reinventando degli ambienti tu hai citato Minervini che è scomparso quest'anno purtroppo Minervini era una persona affascinata da questo rapporto infatti ha avuto quella bellissima idea quella è molto smart di usare i fondi europei per far venire i bollenti spiriti far venire nella sua regione i migliori cervelli d'Italia però non decidendolo lui diceva c'è un gruppo di ragazzi che sono interessati ai violoncelli benissimo allora voi mi trovate il miglior violoncellista d'Italia e lo invitate vi trovate un posto io vi pago il viaggio il vitto e l'alloggio di questa persona basta con pochissimi soldi questo ha creato un'esplosione di intelligenza e quindi di creazione di valore all'interno della regione Puglia una cosa fantastica ecco questo è molto smart ed è un modo di surfeggiare diciamo sopra l'onda di questa rivoluzione antropologica che stiamo vivendo voglio mettere una nota positiva perché se no sembra che sono quello che porta sfiga insomma la nota positiva è che siamo in Italia paese vessato pieno di rancore giustamente giustissima osservazione pieno di tristezza rabbia eccetera ma un paese dove siamo sempre punta avanzata di un processo cioè noi siamo un po' la cartina al tornasolo di quello che succede in occidente gli Stati Uniti lo sono dal punto di vista tecnologico dal punto di vista socio-antropologico lo siamo noi per tante ragioni ora in Italia sta avvenendo questo fenomeno che è un fenomeno molto interessante e con i miei studenti le persone con cui collaboriamo ci è sembrato di poter individuare un fenomeno che riguarda la progettazione urbanistica naturalmente che è quello che chiamiamo progettazione mediterranea non è un discorso alla graxi insomma non è un discorso ideologico politico eccetera geopolitico è un discorso proprio culturale nella cultura mediterranea intesa in senso molto ampio ci sono degli anticorpi a questo sistema distruttivo che sono legati per esempio al tema della carne che è un tema fondamentale se c'è una cosa io ho studiato all'università pontificia se c'è una cosa io ho studiato San Tommaso d'Aguino la mia laurea è sul pensiero di Tommaso a riguardo dell'intelletto una cosa che mi ha sempre destato stupore quantomeno è vedere una certa assenza da parte del pensiero cattolico nei confronti della carne paradossalmente cioè lo è a livello teologico naturalmente ma a livello culturale questa secondo me è la grande battaglia e lo è anche a livello urbanistico e la carne io ho discusso tante volte con giovani anticlericali atei eccetera eccetera se uno va a grattare sotto sotto forse il padre la mano ne sa qualcosa quello che c'è dietro non è l'odio per la chiesa non è l'odio per i preti non è l'odio per il Vangelo è l'odio per la carne cioè queste persone sono perfettamente in linea con una tendenza che ormai è velocissima alla trasformazione della nostra essenza in qualcosa di atemporale a spaziale qualche filosofo ha parlato delle masse estetiche statiche ora questo è un pensiero che appartiene un po' alla sinistra eccetera ma in realtà ci sono degli elementi teologici fondamentali che andrebbero recuperati su questo tema io lo faccio banalmente mettendoli a lavorare come schiavi gli architetti gli faccio zappare la terra mettere sui mattoni usare la calce si bruciano le mani eccetera ed è un'esperienza che a loro serve molto ma scusate io prendo troppo tempo solo ringraziare perché credo che questi incontri il il senso vero è quello di sollecitarci ripeto quello che ho detto all'inizio mantenerci svegli e portarci delle inquietudini perché quando sentiamo parlare di crisi economica crisi culturale io parlerei di vera povertà culturale e umana capire che una dose di potere ce l'abbiamo perché insieme ai tanti esempi che ha fatto il professor Becchetti io ricordo forse perché ero ragazzo i palloni che a multinazionale faceva cucire dai bambini di un paese da virgolette sotto sviluppato quando abbiamo deciso di far capire che non ci piaceva che quei palloni fossero cuciti da bambini abbiamo diminuito l'acquisto di prodotti di quella multinazionale ora se andate a vedere chi quella multinazionale ci tiene con delle etichette a informare che quel prodotto non è fabbricato con l'utilizzo di manodopera di bambini allora noi quando sentiamo parlare di cellulari di aggeggi che sono costituiti in prevalenza da coltan e sappiamo che in determinati paesi questo materiale viene recuperato con la manodopera di bambini bambini mandati a scavare perché più abili allora questo potrebbe modificare il nostro stile di vita il nostro stile di vita il sistema cioè l'intuizione di entrare nel sistema per trasformarlo è qualcosa che però richiede un lavoro prioritario contare con persone sveglie perché no se no il sistema ti condiziona noi reagiamo molto emotivamente quindi l'emozione dell'iniziativa che mi arriva attraverso il social mi coinvolge quanto lo scelgo o continua a essere guidato dal sistema il punto su questo chiudo è preoccuparci di recuperare l'uomo e la donna la persona capace di scegliere capace di essere sveglio riconoscere non sottrarsi ma riconoscere il contesto nel quale vive scegliere a livello personale scegliere non essere vittima dei vari sistemi che si possono generare e realizzare e io credo che è una realtà non può essere tutta positiva o tutta negativa quindi ci sta il vivere la positività e anche vedere il negativo così come Sant'Ignazio parla di consolazione e desolazione e chiuderei visto anche il contesto nel quale siamo si è parlato di la bellezza salverà il mondo allora all'ex alunno Gesù Cristo ci ha già salvati grazie e poi ci sarà informazione sul prossimo appuntamento grazie